Buonasera, bentrovati dal TGR dell'Umbria. La sicurezza sul lavoro è una priorità sociale del Paese, così il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione della giornata di sensibilizzazione sul tema organizzata dall'ANMIL. In Umbria, nonostante il leggero calo rispetto allo scorso anno, sono già 11 le vittime nei primi 8 mesi di questo 2019 e in 10 anni il numero di ispettori si è dimezzato. Sentiamo Antonio Barillari. In Regione, 11 morti sul lavoro nei primi 8 mesi del 2019, due in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In Italia, tre morti al giorno, 1133 nel 2018 e un ferito ogni 50 secondi. Gli infortuni valgono il 2,6% del nostro prodotto interno lordo, con costi sanitari, amministrativi e assicurativi. Investire in cultura sulla prevenzione, perché avremo dei risultati a costo zero e ci sarà meno costo per la società, per i danni che subiscono i lavoratori dagli infortuni sul lavoro. Si muore anche perché gli ispettori sono pochi. In 10 anni sono quasi dimezzati. Chi è andato in pensione non è stato sostituito. Spesso chiudono un occhio gli stessi lavoratori, preoccupati di perdere il posto se denunciano irregolarità. C'è un calo incredibile nel mondo dell'inizio e aumentano gli infortuni. Vuol dire che qualcosa non torna. Vuol dire che bisogna riaprire un dialogo a tutto tondo e capire le ragioni di ciò. Le ragioni di ciò le possono comprendere solo chi vigila nel mondo delle istituzioni per quanto attiene la prevenzione nel mondo del lavoro. Il presidente Mattarella ricorda che la sicurezza sul lavoro è una priorità sociale, un tema centrale per il valore che la società attribuisce al lavoro. Il testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro risale al 1965, specchio di un'Italia che non esiste più.